La Commissione europea detiene potere esecutivo, propone le leggi e dà sede a Bruxelles. È formata da 28 commissari, uno per ogni Stato membro. È guidata da un Presidente che resta in carica per 5 anni. Il Parlamento europeo è una delle due Camere che esercitano il potere legislativo ed è composto da 751 eurodeputati divisi in vari gruppi politici. Alle prossime elezioni l'Italia ne eleggerà 73. Il Consiglio dell'Unione europea detiene il potere legislativo insieme al Parlamento. È composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro. La Presidenza è soggetta a turnazione tra ogni Paese e dura un semestre. La prossima Presidenza sarà assegnata all'Italia. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato e di Governo dei Paesi membri. Nasce nel 2009 con il Trattato di Lisbona. Si riunisce in occasione di avvenimenti importanti e non va confuso con il Consiglio dell'Unione europea.